Hey yo signori qui è Rinsler il vostro lore master e oggi vi svelo una curiosità su Nautilus Quando era in vita Nautilus era una persona altamente superstiziosa Del tipo che ogni volta prima di andare per mare svolgeva il classico tributo di lanciare una moneta in acqua per placare l'ira della dea Il giorno in cui fu trascinato negli abissi fu lo stesso in cui la sua ciurma non rispettò tale tradizione Una cosa che poi si ripercosse nella sua maledizione Da allora Nautilus noto come un mito scruta le acque di Bilgewater e si manifesta solo quando i marinai che viaggiano per mare non pagano l'offerta alla dea Per poi trascinare sia loro che la nave giù in fondo agli abissi Insomma per farla breve o paghi il pizzo o Nautilus ti butta in mare